La prima cosa da fare una volta che lui apre la porta è piazzargli un bel calcio nei coglioni così capisce subito qual è la situazione e non gli dai neanche la possibilità di reagire lo dico per esperienza è meglio che uno lo sappia subito che sia lì per ammazzarlo così non vede l'ora che sia tutto finito e se reagisce lo fa senza speranza ricordarai i nostri giorni felici ricordarai il sabore dei miei besi e entenderai in un solo momento che significa un anno di amore che significa un anno di amore un medico è come l'acqua nel deserto c'è perché serve e se tu avessi bisogno di me io sarei qui e da nessun'altra parte un anno di amore un anno di amore un anno di amore